Il progetto di strada ne ha già fatta tanta, ma certamente con questo regalo potrà farne ancora di più. Parliamo di Senza Sbarre, l'iniziativa che punta al reinserimento sociale per detenuti ed ex detenuti, che ha trovato casa presso la masseria San Vittorio alle porte di Andria. Qui sorge la cooperativa a mano libera, specializzata nella produzione di pasta e taralli artigianali, alla quale il vescovo, Monsignor Luigi Manzi, ha donato questa mattina un furgone per il trasporto merci. Intanto che possiamo prendere più quantità di prodotti e metterli all'interno e anche la consegna sarà molto più agevole, per cui questo strumento era indispensabile per entrare in quello che è il percorso della piccola azienda. Ma dietro c'è un significato molto importante, dove c'è l'amore da parte di un vescovo che al grido dei poveri, lui non è insensibile, ma è presente. Un segno della grande vicinanza del vescovo al progetto di Ucesano Senza Sbarre, nato con l'obiettivo di ridare dignità, attraverso un lavoro onesto, a chi ha sbagliato, ma vuole rimediare agli errori commessi. Questo progetto vede un suo passo avanti con grande gioia, con grande soddisfazione, ma anche sempre con grande responsabilità, perché quando si ha a che fare con persone umane da riportare a godere di tutti i diritti nella libertà e nella serenità, ci si rende conto che le cose si devono fare per bene, non si possono fare in maniera approssimativa e pasticciata e quindi Don Riccardo da questo punto di vista opera con grande competenza e soprattutto con grande passione e con grande amore. Un ulteriore riconoscimento per il progetto arriva da Milano, dove i taralli a mano libera, assieme all'azienda Terre di Puglia, hanno conquistato anche TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare, guadagnandosi una prestigiosa nomination per il premio Etica e Sostenibilità. Grande soddisfazione per la nomination al Better Future Award 2021 a TuttoFood Milano, manifestazione fieristica importantissima d'Italia. Si è tenuta, siamo appena ritornati da TuttoFood, dove appunto il progetto dei taralli a mano libera è stato portato da noi di Terre di Puglia come un progetto che converge su obiettivi di etica e sostenibilità. Devo dire che il progetto continua a vele spiegate e noi continueremo a supportare questo grande progetto perché vogliamo portare la cultura di questo prodotto che è il tarallo fatto ad Andria, un tarallo completamente fatto a mano. Grazie.